Il PD deve costruire un movimento nazionale non di donne ma di donne e uomini su questo modello produttivo ed economico e qui sarà la scommessa, aggiungere alla lettura nord-sud, alla lettura dell'economia questo punto di vista. Ecco perché io credo che questa discussione ora dobbiamo buttarla nel vivo di una battaglia per condizionare il governo, segnarlo dal punto di vista dell'innovazione sapendo che grazie al piano e all'orizzonte offertoci da Draghi noi ci sentiamo a nostro agio dentro questa sfida. E poi ovviamente, come ho detto, questa nostra identità deve essere il cuore di un rilancio di una prospettiva politica futura. Vedete il congresso nazionale del PD si è svolto nel marzo del 2019, le primarie anzi, non il congresso. Le primarie saranno nel marzo del 2023 e dal 2019 a oggi noi abbiamo avuto 14 mesi chiusi in pandemia e quindi io penso sia giusto perché è cambiato tutto. Come ho detto, aprire una discussione su di noi, su quello che siamo, sulla nostra idea di paese, sulla nostra proposta di paese e aggiungo va fatto tanto di più perché abbiamo dimostrato in questi mesi che quando il PD si muove l'Italia cambia e cambia in meglio. Perché non eravamo a questo punto di partenza e ora ci siamo arrivati e questa discussione andrà fatta anche con franchezza e con chiarezza.